Siamo in compagnia di Totò Mirabile, accademico di Sicilia, papà di Rossella Mirabile e naturalmente autore del pezzo Amarsalisa. Allora Totò, le tue impressioni su questa bellissima serata? Dunque, vi confesso che sono emozionato perché dopo aver sentito in questo meraviglioso teatro la canzone che io ho composto alcuni anni fa a Amarsalisa, cantata tra l'altro da mia figlia in questo contesto del premio del ventennale dell'universo donna, è certamente un fatto che mi emoziona tantissimo, da premettere che proprio questo canto è stato premiato nel famoso festival internazionale Rosa Balistreri di Licata. Quindi per me è già una seconda soddisfazione sentire questo canto in teatri che sono veramente il gioiello del mondo culturale e artistico. Quindi la mia emozione è quella che spero che mia figlia vada avanti con il canto, anche per chi ha conseguito la laurea in musica, quindi è un mezzo soprano, già insegna canto e quindi speriamo che si possa affermare in questo settore. Grazie.